La criminalità non ha vita facile nella nostra provincia, così il questore di Teramo Maglia di Ruocco nell'illustrare il bilancio sociale per l'attività di sicurezza svolto nel 2009. Positivi riscontri nonostante i problemi di organico, inferiore rispetto alle esigenze. Sono poco più di 11.000 i delitti in calo rispetto al 2008, di circa il 12%, il che riguarda furti, rapine, estorsioni, violenze sessuali, stupefacenti, truffe. In calo il numero dei denunciati da parte della polizia, invece è aumentato di circa il 25% il numero degli arrestati, da 178 a 232. La squadra mobile si è contraddistinta nella lotta al narcotraffico, con il sequestro di 45 kg di stupefacente, 24 di hashish e 17 di eroina. Per la divisione anticrimine i dati sono sostanzialmente in linea con quelli dell'anno precedente. Tra le misure di prevenzione c'è una più marcata emissione di DASPO, da 6 a 30. Circa il reparto volante in calo il numero di persone e di esercizi pubblici controllati, quelli dei denunciati, saranno invece gli arrestati, la metà dei quali stranieri. Un lavoro, quello della questura, ancora più impegnativo in conseguenza del sisma di aprile, col personale coinvolto sia nelle zone colpite, sia sulla costa, per garantire maggiore sicurezza agli sfollati. Senza dimenticare altri grandi eventi che hanno assorbito molte energie, i giochi del Mediterraneo, il G8. Il livello di sicurezza della provincia di Termo, penso, almeno dai dati che vi abbiamo forniti, che sia buono. C'è una realtà in cui i reati diminuiscono, aumentano gli arresti, oltre a tutte le attività e le progettualità che vi abbiamo presentato, penso che sia una situazione apprezzabile. Particolare efficienza nella trasparenza, con la carta dei servizi sempre aggiornata sul sito internet, è nel rilascio di permessi di soggiorno, con un intermedio di 35 giorni rispetto ai 45 richiesti della legge. Non ci sono stati particolari fenomeni perturbativi relativamente all'ordine pubblico. Comunque i servizi sono aumentati, negli stadia, nei palasport, per i cortei ed altro. Segno che nulla viene lasciato al caso. Massima cura ai dettagli, ricordando che la sicurezza è sempre frutto del gioco di squadra. La sicurezza è un gioco di squadra, si deve fare insieme. Quindi anche nel 2010 non ci staccheremo mai di dire che c'è più sicurezza insieme. Quindi tutte le istituzioni, tutti gli enti, tutte le parti sane della società, tutti i portatori di interesse nei confronti della nostra amministrazione. Gli stessi cittadini. Ognuno deve fare la sua parte.